Ragazzi, eccoci qua. Qui cano di Pura, non vedo un attimo la guaiacola, ragazzi, ma voglio dire... Questa è la promo per... Per... Che cazzo è la promo? È la promo per Platino con l'account King Canlupo. Ed oggi siamo qua per fare questo video. Per dirvi due cose. Una che se vi conquista vado Platino, come già ho detto. E due che stasera, avete capito bene, ragazzi. Questa sera, a partire da mezzanotte, io e Profeta, vi lascio il tuccio in descrizione, faremo la rotta purificazione online. Io con l'account Silver 2 che ha nevo fargli, e lui con l'account Silver 3. Ragazzi, vi aspetto. Intanto iniziamo questo fantastico match. Io, però, io... Così, 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 così. Iniziamo questo fantastico match. Con Rai Zedob! Se mi sentite parlare in basso, ragazzi, è perché... Avete visto anche da allora? Prima. Non so se avete visto. Però se avete visto, potete capire che di certo è tardi. Ora posso andare qua, qua, qua. Ok, raga. Che c'è? Ma anche voi sentite Ghanineko? Sì, lo so, è un problema di Profeta. È un problema di Profeta. Se a certe volte, ragazzi, si blocca Lole. Perché sto rispondendo ai messaggi in chat di Twitch. Però credo... I hear you two signs. It's me, Mario. Allora, raga. Dobbiamo vincerla. Se la vinciamo, ragazzi, questa Conte in Platino. Che cosa hai finzato? Sono stronzata. Perché face WECU, dicevi? No, perché... Per il vetto da schermo. Ah. Può essere che era un vecchio Smurf. È come se stasera, porco Dio, l'Eco. Invece, mi ha fatto bestemmia nel video. Quindi, non ci sono la miseria. C'ho Riven Top. Oh, quanto mi diverto. Ma pure lei c'ha arti più. Contro Riven Top, Corazzo e Regaldo. Le cercate di stasera. Finché non prendete la goccia, e lì tenete il frasso inerti. Poi potete fare come lo pare. Tipo ora come ora. Io non posso rassare lei a qui. Capito? Perché non c'ho la goccia. Devo solo farmare. Anche in realtà, non c'ho Magic Crisis, lei. Quando la snare è d'ora, lo scudo non si troppo ne mette, quindi... Stronzo. Stiamo recando, stiamo recando, stiamo recando e stiamo stremmando, quindi... Ora Riven andrà back. Centro for Chile. Car come? Non lo piego così. Poi il gank di Pugong, i riveni di Pugong hanno flashato, però purtroppo non ho dovuto fare niente Come devono attire le rank di là? Oh, mi pare che è finita la loose strike Però non sono finito i ritardati, questa è la cosa preoccupante Cioè, abbiamo un Orianna che ha filato 6 ultimi Ok, ma non è che ha peccato il tank, non ha peccato neanche quello, cioè la proprio... Come se faceva a penale, comprivi la champion, tipo non sapeva come portarlo Comunque, se vinco questa, vado un plan di nuovo 5 bonus mark E stavo riccando, quindi stai zitto a non dire cose che non potrebbero contagi Vabbè, comunque io gioco, io gioco, che stai dicendo? Io mi metto a giocare gli assassin, sto spammato tipo un bel po' dei meguagali, ne so perso uno su cinque Tanto con l'assassin, cioè l'unica cosa becca è che arriva nella lane in phase Devo imparare a carriere meglio No, a volte, che cazzo sta succedendo? Questo V-Gong è morto da solo Perché mi prego doveva V-Gong, sto coglione Non uso ancora la Crystalline Flasker, regà, perché non appare in sfida e sarebbe uno spreco Ma ancora la posso usare Riven, Riven Poi c'è comunque un po' comana, per meglio usarla C'hanno loro come jungler, vp, vabbè Non uso lo scrivo perché sapevo che avrei bruciato l'airina Vabbè, stiamo sotto la città Ma davvero? Quando io so che lei ha lo scudo, quel codone è finito, mi torno ad un attacco Quando so che lei non ha lo scudo, usalo Come il canone non lo voglio perdere Usano anche quest'altra V-Gong sta ancora al 4 e sta 1-1-0 V-Gong sta al 0-1-1, non credo che sia ancora Starà al 5, ancora al 0 non ce l'ha Quindi posso stare tranquillo che a top non lo gancherà Riven a fine delle opzioni Riven a fine delle opzioni Ok, ragazzi, regalla Mi posso fare goccia 700 più 900 più del 600 350, perfetto Precisi, precisi, ragazzi, tieni Siccome non voglio perdere manco un minion E' proprio questo Ha stato pure l'airty prima di sapere Cioè, gli piacciono questi danni, allora? Oh, un bici Ti piacciono questi danni, eh? Ti piacciono questi danni? Ti piacciono questi danni, puttana Mamma mia Che damage Io spero che tu abbia visto i danni che gli ho fatto Gli hai visti? Ok, ok Ho mai idea se questo è sarebbe bene Ok, sarebbe benissimo Riven a no TP, confirmed Guarda quanto che ho levato con un macu Mamma mia, 18, Riven, 18 Go home, you are drunk, Riven Go home, you are drunk Come on already Come on I Prosci City Ma mai Lo Prendi Lo 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 Un Lo Lo E finchè fa l'air per venire addosso, prendimi ma Un momento qua non può fare niente Non mi fa danni Un inimio è stato scarnato Un enemigo è stato scarnato E ti ha scarnato il enemigo Bufu una flash Intanto sarei morto lo stesso anche se andavo con l'assoluto l'attuale prova a regalare la anzi no ok ok compramo di ward perchè non mi posso ripermettere quando è gancata a buco madonna la sto devastare riven è a livello 7 io sto al 9 se c'ha 45 di noi c'hanno 30 di più ora stopperò un attimo lo schermo perchè guardo in chat che dicono guarda come salva però sprechi la ecco il video è grave ho avuto questo un mio amico dagemond domina lister support è una cosa terribile lister è lì quando non so perle che godura forse è pacciato non so come si scrive proviamo ok vediamo se sta a recca ok sta recca perfetto vv stava qua e vai uno ci muore ah bravo ma l'ha lasciato morire lei lasciamo morire la di gary in meta c'è ha proprio detto mori troia io non mi sacrifico per te lale vabbè facciamo così la sentiamo con le due così stacca un po' eh vabbè all'altro è rimorta questa raga ma raga ho sbagliato io mamma mia che cazzata non ho fatto una casa della colonna che schifo lo so non ho lanciato una casa della colonna ma vaffanculo a me andiamo a guardare che coglione che so che coglione ragazzi la tua team ha scolto la porta che cosa non ha fatto Un interno a me a me mi 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 205 con a Q L'unico motivo per cui io uso lo snare Perché così non può usare lei se io uso lo snare, credo La shot non può fare niente, non ho vinto Ormai la tappa è vinta Non prendo la torre La sto troppo, li sto troppo sopra Se li prendo la torre gli do un vantaggio a lei Quello di free farmare, siccome non gli voglio dare free farm Col cazzo Ok ragà, ora si abbasserà l'haul perché vedo la shot, ragà Allora, Danie, lei, le ho fatte tutte, grazie a Manu le pubblicità The next, i cani, perché i cani si sentono così di merda? Eh, poi lo finiamo un giorno di questo, non mi preoccupare Non mi preoccupare Lol e cane, è il nome del support Ciao io, vabbè io vado, vai, guarda che cane, ciao bello Salutami, Obi-Wan Kenabby Lol 20 viewers ragazzi, 20 viewers alle 2 di notte solo per me profeta, giusto profe? Giusto Ma che cazzo è stata combinata l'assunto? 5 contro 3, cane Tocca, 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 tocca Lo so, lo so, ma chi è? In caso da Il trago se lo siamo presi noi Il trago se lo siamo presi noi tanto tempo fa o sono presi loro? Dai, però fa Bello Bak se lo arдonand Ti ricordo Ciao Ti ricordo Ti ricordo Ti ricordo Tiara qui avvukame un po' Nuro Si sono presi loro Non c'è loro Vieni, di man, vieni Con uno qui io вариант 300 ora aiuterai l' male 221 Oh c'è il drago c'è il drago c'è il drago vengo io vengo a DTP vengo a DTP vengo a DTP Ok non c'è, non c'è nessuno Arrivo, 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 arrivo Dai fate qualcosa cazzo, perchè non fate niente? Ma che cazzo? Dobbiamo lasciare il free deck? Veramente Stare tutti a dormire, se c'è una teoria siete coglioni però Il grab! Oh aiutate quella! Quella! Mazzà che grab proprio è! Leva la pinca va, leva la pinca, leva la pinca Pure qua c'è un'altra pinca Come potete vedere profeta non è main support Mena di carry Questa qua voleva una mida, rotta il cazzo e mofita come nemmeno Quella annaccia io? No ma perchè io? Io sto all'11 Lì ve ne sta 1, 3, 2 Ma che fa? Snaggia Sì ma se c'è una teoria siete coglioni 3 volte però Che push ho qua? La carry sta qua eh An enemy ha scritto Rampage An ally ha scritto Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Tu fidda! Madonna! Come cazzo fa la Kali SS così fidata? Vabbè vanno a me si è preso in quadretori. L'erutore top io l'ho lasciata come tecca. Mi faccio il frozen. Tanto Kali fa danno pure a Dio. Trovo una bella spirit e poi c'è questa rete. Non mi faccio il frozen. Mi faccio il frozen. Deciso, deciso. Qua sono stato pure io un coglione che sono del suo sudore però vabbè. Loro qui c'hanno fiddato, scusa. Qua c'ha l'infinity... Mi faccio il frozen e poi... Madonna c'abbiamo un casino di Torrio. Loro non c'hanno manco una Torrio, manco una ce l'hanno. Non vedo questa perchè è sua P. Eh? Ma ne hai preso un grab? Ne hai preso un grab? Ne hai preso un grab? Ma che set? Ma che set? Io prima stavo a Mardrago e l'Shotter Kragul. E di su Riven hai fatto con l'Utf. Su Df è in coglione. Ma era quell'altro più banca. Quindi ci dà un più down. Se non mai shogarli top. Come on already! Continua a pusha dopo Ok, shot. Magari top? Beh, trova a shot, ma non lo so Ok She is too feed for me Next time I don't let you meet Bravissimo, bello success Bravissimo Magic damage, magic damage Ho fatto tutto magic damage Faffanculo, allora Comunque va a fuck, regà Comunque va a fuck Grabbe Golem Ok Ok La combo che faccio io su Raze è QE Strosso Strosso Io ho ArtP, eh Dove danno tutti i bot, perchè sennò mi viene a cagli e mi sfruttano Andate tutti Shottata regà, una EQ, una EQ regà, EQ doppia poco Arrivano a carità per cazzo i mazzi per caso Io ti pidi, ma è vero, va, aiuto No, aiuto, 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 arrivo, arrivo, arrivo Morta troia, morta Forse nemmo meglio finire se trozzo Boom Eh regà, eh regà, 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 qua è tosta, c'è il drago, c'è il drago, c'è il drago, c'è il drago Mo' c'ho il frozzo e ancora cazzo, mi prendo tutto Ok, mi faccio ora spirit e poi mi faccio la guccia Nacali quanto sta? Part 13, io sto al quino, dice Abbasso un attimo, ora non vedete niente Se non ho mai gioco solo rank di scena, tipo, mi slug, si, e che non mi ha gioco, mi interacca Poi, si, a volte mi sembra, vado a usare lì per forza No, non è vero, non è che se sei bravo a usare lì per forza Di avere pure un team buono, tipo noi, se ora avessimo avuto una bigari di merda Non avremmo avuto questa partita Perché io, a Cali, non riesco a sciuttarla Abbiamo un mid di merda Però, se avessimo avuto anche una bigari di merda, avrò perso Invece che fortuna Quindi, regà, sperando che Si va in platino No, regà, nostre cose, però, nostre cose, ecco Va bene, se stava di pieno, sono cazzo i nostri steri di un drago, eh Non se non mi fai su di uno Sono cazzo i nostri spivatori PALIPA , Tag 800 Sì brava Brava ragazzi, brava Oh, Lello, scrivi ggwp in chat In chat hole In chat hole Ah, raga, questo è il mio ultimo game con le chat restrette su saccante L'ultimo Scrivi ATF che, siccome è handicapace, non ha capito che questo è l'unico Non è handicapace sto ATF, non riesce a capire cosa stiamo dicendo Quanti più forse stiamo? Nove, eh, 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 dai dobbiamo spammare qua Qua dobbiamo spammare ragazzi Let's go, let's go Vado top Abbiamo il prossimo item, raga Che grab, che grab Sarà trua, eh Andare via, andare via Però TF di merda Rompe il cazzo, vanno a mida e poi finita Oh, il Baron, 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 il Baron Madonna, oh, e chi è? Ho chiuso il Tino a cane l'uva Tiè, l'ho shottato, vedete che potete fare Eh, vabbè, TF Questo TF era closed Sì, TF era schifo Io l'ho shottato, è solo che mi hanno ultimato VV, mi hanno fatto loot Però gli ho levato un bel foglio, le vada Io cercate di neboli VV, così in seconda fa niente Non c'è andate, non c'è andate, non c'è andate Cercare solo di non fargli far bar Vai, vai, vai a guardà, vai a guardà Vai a guardà, vai a guardà Ok, non so stanno a fare, perfetto Io ho il TP eh Vai, sta da solo, è da solo Madonna Io ho il TP, 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 io ho il TP Nove secondi Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Ho il TP, 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 ho il TP Non è morta? Mi fai troppi danni, Reven Mi fai troppi, Reven Chi è? Chi era questo? Oh, the damage, Reven, the damage The damage The damage, Reven The damage Mi ho levato un bel po' Mid, 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 mid Sì, sì, ti regalo Sì, sì, ti regalo il sodio che è dentro Perché Wugang hai segnato il back airfield? È veramente bella Vanno back perché c'è Brahma È veramente bella Sì Vi aspetto 20 gold in base Che ho le Omegarde Archangel... ecco l'ultimo video Non mi sa che mi faccio O il Vorista fa un'altra rod No, vediamo che c'è lui No, mi faccio un'altra rod Quanti siamo? In dieci sono ritornati, vai così BIG VIEWERS Vai Questi... non c'hanno una torre, non c'hanno Tutti i mid, tutti i mid dobbiamo andare, andiamo Tu devi usare l'ape e stoppa la ulti a W, capito? Hai capito? Sì Non c'è l'hai l'exos Guarda un po' qua che c'è Vieni qua, vieni qua evolutionary mi gui Un amici che è stato slaino, tu hai visto il team Rilandos 2 da bravo Ero morto, vabbè. Qua devo fare niente. Sì, ma Caitlyn è stupida. Caitlyn è una stupida. No, non ce lo fanno al Baron. No, lo danno regalà. Quasi... Chi la torre? No, la cosa che mi farò del culo è che... Caitlyn è proprio stupida. Ce la fai a Wardle Baron? Grappalo, grappalo, sennò leva la ward. Grappalo. Perfetto. Hai fatto affatto? Sì. Dove ho? Dove macchie? Mamma... Mi mancano 200 gold per la ciancia. Amantino in gold. C'è lei la pink? Ci sta il drago? Sì. Buono, 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 buono. Perfetto. Ora abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Gar sonra vinto. Ovvero pesa, questo, per il calcio. Adesso schifo il hani unㅋㅋ Nord. Paolo che è avanti f farms. Capマ nel fascismo. Mi fila di fondo. Non lo fa in democchio. Ma qua, questa cosa deve tengonak? prendi uno, prendi uno strozzo e non c'ho neanche di flash cazzo ci vado? si si ci dobbiamo ingaggiare chedili non fa un cazzo cazzo ma che fai? ho matta, ho matta e mori ho il tp, ho il tp che coglioni tu sei morto subito di qua io non riesco ad andare a tristano, cioè è broma che mi fermo subito mi serve il flash quando tosta tristano mi serve il flash, un minuto manca il flash top, 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 top top, 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 top si è presa la dole top qua qua fa un culo ti devi mettere una pinca a carta si, ti dobbiamo andare tutti meglio per forza un buon gigante no dal po' ciò che ho creato davvero che andiamo non devi agli svegli non devi agli svegli non devi grabbappo curo questa è una fuoco a me? oh vaffanculo a me mi hanno spawnato, hanno fatto tutto su di me tutto su di me questo di appena fa un cazzo veramente si io ti afferro su di me io boh, io veramente sto al 18 sto sopra tutti però Tristana mi sfonda oh io mi so tankato eh lo so, l'ho sentito io mi so tankato, Braum ha ultimato solo a me Riven, VV e Braum stavano tutti su di me compresa Tristana quindi non so no mo se perde la gap questo è un colpone attento attento bravissimo oh bella Vai ce la facciamo, io Tristana me la leggo comunque Ma che hai fatto Profan? Ho provato a grabare Braum Io non ho visto Braum 30 secondi, arriva e ne 10 a Tristana, vai, il nipotra ce lo prendiamo sicuro Proprio potremmo pure restare a pusha Perché... ce la facciamo Ti devi difendere Ghettin, però C'è il Baron tra un minuto e 28, a voglia Stiamo qua, stiamo qua, tutti qua, famo un bait Ce l'hai Trinkatrosso? Ok, stiamo qua, stiamo qua, stiamo qua Tristana, Tristana Ci ho tutti io, ci ho tutti io, ci ho tutti io No, 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 no Tristana è scappata Veramente L'abbiamo perso Ah, oh, Tristana, io l'ho zonata più di così più di me L'abbiamo perso No, mo' плох ...dipo... ...dipo... Report edf, va scrivi Ah, regà, veramente io Guardate che nap, regà Guardate così inizio qua, veramente Vorrei dire ha giocato un po' di merda, bro, qua Però Vabbè, ha giocato di merda Ah, regà, mi raccomando, stasera A mezzanotte Rotto purificazione online Unfascio a tutti, ragazzi Un bel like, eh Sotto in descrizione, da Gandupo, bella